Grazie. Allora, buonasera di nuovo, naturalmente, quindi credo che ci siano davvero molti motivi di conversazione, come sempre comincio io da qui. Allora, ci sono tante cose che vorrei chiederti a proposito di questo film, che io ho visto quando è uscito, pochissimi mesi fa, aspetta, metti avanti così, se no ti viene il torcicollo, eh, mettiamoci più vicini. Allora comincio dagli interpreti, poi vorrei parlare della scrittura, poi vorrei parlare di tante altre cose, però potrei cominciare anche da chi è Orlando, ma non l'Orlando che abbiamo visto, però cominciamo dal lavoro che hai fatto con Placido. A me non è male, sembri stare in barca o in moto senza casco, ma va benissimo. Allora, cominciamo dal lavoro con, io dicevo appunto, secondo me è un'interpretazione memorabile, ma non perché scopriamo Placido adesso, no? Però avete trovato una sintonia, un modo, un invecchiamento del personaggio. Però lascio a te raccontarci che cosa è accaduto, come avete lavorato. Ma Michele ha letto la sceneggiatura e poi una domenica alle sette e un quarto di mattina mi squilla il telefono, io pensavo che fosse mia madre. Invece era Michele e mi diceva, ho letto la sceneggiatura. Ero un po' rintronato e ha cominciato a parlare di questa sceneggiatura perché lui ha trovato dentro questa storia una serie di risonanze che hanno a che fare non direttamente con la sua vita, perché Michele è un uomo che è cresciuto in città, ha studiato all'accademia, non ha fatto il contadino, ma viene dal sud, viene da Ascoli Satriano, un paesino delle Puglie e continua ancora oggi ad avere un rapporto con questo luogo, con le persone che ci vivono e con la terra. E soprattutto è una persona che ha la memoria lunga, per cui ha rivisto nella storia di Orlando momenti della sua vicenda familiare. Questa cosa io l'ho capita immediatamente già in quella telefonata perché lui era entusiasta della sceneggiatura. Insomma, la sceneggiatura può essere buona o meno buona, ma quando un interprete si sente tirato dentro la storia, allora diciamo che è un buon inizio. Quindi quando ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a leggere insieme la sceneggiatura, lui ha iniziato a entrare dentro questa storia attribuendo a ciascun passaggio emotivo del personaggio delle vicende di cui in qualche modo aveva contezza. Lui aveva uno zio che aveva fatto questo, un nonno che aveva fatto quest'altro, un padre che aveva ragionato così. Cioè ha trovato dentro la sceneggiatura una mappatura di una vicenda sociale che lo riguarda però in maniera piuttosto diretta. E questa è la prima considerazione che mi viene da fare perché infatti lui ha aderito enormemente alla sceneggiatura. Ma c'è un'altra cosa che poi è venuta fuori col tempo. C'è una questione secondo me che riguarda... Noi siamo un paese fortunato e i registi di questo paese sono fortunati perché in questo momento abbiamo veramente dei grandissimi attori e delle grandissime attrici. Spesso non utilizzate dal sistema nel pieno delle loro capacità. Anche perché i film passano troppo spesso attraverso meccanismi che poi li riducono a poca cosa. Quindi quando un attore trova dentro una sceneggiatura un'esperienza piena e vede la possibilità di esprimersi fino in fondo attorialmente allora scatta una scintilla ed è il primo incontro tra il regista e l'attore su un territorio sconosciuto a entrambi. Ecco, questo incontro è stato molto bello perché Michele è come se avesse bisogno di interpretare un personaggio così. Tra l'altro è un personaggio che va completamente contro i modelli recitativi, narrativi che lui ha adottato come attore negli ultimi vent'anni. Per esempio è un personaggio muto. Michele è un mattatore, non so se l'avete mai visto a teatro ma quando entra in scena anche nell'ultimo spettacolo che ha fatto che ha avuto un grandissimo successo in tutta Italia la bottega del caffè che è un classico col Doniano dove tutto passa attraverso il dialogo e lui si sente bene dentro il dialogo. Quindi trovare una sceneggiatura che lo ha sfidato su un altro territorio perché Orlando è un personaggio laconico non è muto ma è laconico infatti a un certo punto ci siamo sentiti anche in dovere di scrivere una scena che spiegasse la sua morale rispetto alla comunicazione. Io parlo solo se ho qualcosa da dire. Questo mondo narrativo e i meandri di questo personaggio lo hanno fatto sentire bene e questo si è tradotto prima durante le prove abbiamo fatto a lungo molte prove io l'ho seguito in tutta Italia mentre facevamo gli spettacoli abbiamo fatto le prove in giro mentre facevamo le prove e mentre giravamo si è tradotto in una totale disponibilità nei confronti in una fiducia di Michele nei confronti delle sue grandissime possibilità. Questa cosa l'ho ammosso ma il terzo elemento fondamentale è lei perché il personaggio di Lise è un personaggio particolare ma quando Michele ha incontrato Angelica Gazankova ha vissuto una sorta di shock di transfer e io li ho colti li ho beccati spesso mentre parlavano fitti fitti tra di loro delle scene ed era un rapporto non tra nonna e nipote quello era un rapporto tra due attori perché questa ragazzina di 12 anni è un'attrice per cui lui si è dovuto confrontare tutti gli attori adulti sanno che la cosa peggiore che ti possa capitare è un attore diciamo un minore sul set perché non sbagliano una battuta per esempio quindi ti mettono in crisi ricordano perfettamente le indicazioni del regista e anzi entrano in crisi loro se gli cambi le carte in tavola ma questa ragazza aveva la capacità di trasformarsi continuamente durante le scene recuperare anche i momenti di manchevolezza di Michele e quindi Michele ha trovato una formula perfetta aveva dinanzi a sé un'attrice compiuta e quindi ha smesso di avere paura dopo poche ore già nel primo giorno di riprese e si è completamente abbandonato al racconto di Orlando senti un'altra cosa prima parlavo della sceneggiatura poi mi è venuto in mente un altro elemento che è molto importante nel film ma lo è spesso nei film che fai che è quello del lavoro il lavorare il fare di quanto poi sia importante ho l'impressione ma non è solo un'impressione che poi il tema del lavoro sia uno dei grandi assenti di molto di molto cinema italiano mentre per te è un elemento centrale cioè è un territorio che esplori al quale torni veramente molto volentieri mi viene da dirti perché ma non so io ho la sensazione che il cinema italiano abbia abolito il lavoro però senza poi il reddito minimo garantito nel senso che è molto probabile adesso dico una cosa discutibile però cerco di spiegare di spiegare a me stesso perché diciamo che l'estrazione sociale di chi racconta le storie non è acqua cioè se tu nella tua vita non hai dovuto affrontare la questione del lavoro inteso in senso produttivo non sto parlando del lavoro artistico che è tutta un'altra cosa contiene il lavoro artistico anche l'aspetto produttivo ma non è preponderante la gran parte delle persone hanno a che fare tutti i giorni col tema del lavoro fino a qualche anno fa solo le commedie raccontavano storie di camerieri storie di persone che lavorano e la nostra cinematografia secondo me in Europa è quella che racconta meno i temi del lavoro credo anche a causa proprio dell'estrazione sociale delle persone che fanno cinema e questo un po' impoverisce alcuni aspetti della nostra cinematografia che comunque resta una grande cinematografia non è una cinematografia residuale però questo è un tema è una questione importante che ne so nel cinema francese si incontrano molto facilmente storie di personaggi che hanno appunto a che fare con il lavoro produttivo non sto parlando dei film di denuncia che sono una categoria diciamo un genere cinematografico a cui a volte io vengo in qualche modo avvicinato ma la questione del lavoro non ha nulla a che fare con la denuncia perché il lavoro inteso come complemento completamento dell'esistenza di un individuo fa parte del racconto dell'universalità del racconto della vicenda umana senti nel film c'è anche inevitabilmente l'arrivo di un vecchino che sembra venire da un passato remoto ma invece ha un presente immagino che poi arriva in una città quindi da una sorta di provincia l'Italia tutta l'Italia non perché il personaggio non perché Orlando venga da da Reatino come zona se non ricordo male e arriva a Bruxelles e arriva poi anche in una Bruxelles strana contraddittoria spesso vediamo nonno nonno padre e nipote in una in una particolare zona di Bruxelles poi c'è una Bruxelles più complicata più difficile in cui lui cerca di integrarsi più che integrarsi cerca di procurarsi il denaro allora questo questo incontro scontro fra queste due realtà hai voglia un po' di approfondirlo? ma allora innanzitutto e fa parte del discorso che facevamo prima innanzitutto c'è tutta una parte del paese che è uscita dal radar della narrazione pubblica non parlo solo del cinema parlo anche della narrativa della televisione a parte qualche trasmissione tipo Linea Verde la provincia italiana viene raccontata quasi esclusivamente attraverso le vicende di cronaca che ne so il Pacciani il mostro cosa è così perché noi ci siamo illusi secondo me che il mondo contadino faccia parte del passato remoto della nostra vicenda sociale però basta allargare un po' lo sguardo e si scopre che nel mondo nel globo ancora quasi la metà della popolazione mondiale vive nelle campagne e vive del lavoro contadino per cui è una prospettiva un po' falsata ma anche numericamente nelle province italiane vivono quasi 20 milioni di persone che tra l'altro votano anche spesso i partiti diciamo a meno quelli che stanno a cuore a me i partiti di sinistra se lo scordano che c'è tanta gente che vota anche in campagna e questa cosa ha a che fare anche con il territorio con l'ecologia cioè è come se è come se noi non 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 vedessimo questo mondo e allora vediamo un vecchio come Orlando e pensiamo che faccia parte del passato in realtà il nostro presente è un sincretismo c'è insieme il passato e il presente non voglio dire il futuro perché sarebbe una forzatura ma insomma una bambina che deve ancora vivere tutta la vita ha a che fare in qualche modo con il futuro allora questa questa apparente distanza tra le generazioni che noi facciamo fatica ad individuare non dico narrativamente ma proprio socialmente nelle grandi città i giovani vivono con i giovani le persone anziane cioè i nonni gli zii si vedono occasionalmente addirittura quando io sono andato a vivere a Roma io vengo da un paesino molto più piccolo di Bobbio quando sono andato a vivere a Roma io mi scandalizzavo perché i giovani non vanno ai funerali io se non andavo al funerale prendevo le sberle e quindi sono rimasto un po' spiazzato all'inizio allora tutte queste cose fanno parte di un'esperienza di vita che è altrettanto importante rispetto a quella che si fa vivendo in città e raccontando la città però il nostro cinema è molto urbano è molto legato alla metropoli alla grande metropoli ed è una trasformazione che ha subito la nostra cinematografia perché fino a qualche decennio fa c'erano dei registi che raccontavano quasi esclusivamente storie diciamo legate al mondo contadino alla sua trasformazione pensate a De Santis De Santis ha fatto quasi esclusivamente quello nella sua vita allora questa cosa il nostro cinema si è trasformato insieme alla società e alcuni argomenti sono usciti dal radar della narrazione e quindi in sostanza l'incontro tra generazioni così distanti sembra quasi una forzatura quando invece è una necessità sociale cioè il fatto che i nonni e i nipoti si frequentino dovrebbe essere scontato ecco non è un dato scontato e un'ultima cosa a rendere non scontato questo dato c'è una cosa che secondo me è sconvolgente che noi non percepiamo con chiarezza noi siamo di fronte per la prima volta nella storia ad una generazione di giovanissimi di giovani e giovanissimi che insegnano agli adulti perché i giovani e i giovanissimi hanno competenze rispetto alla comunicazione agli strumenti di comunicazione alla tecnologia che le persone grandi non hanno quindi c'è una sorta di ribaltamento spiazzante che rende molto difficile riflettere sulle dinamiche reali che sono in campo nella nostra società la scelta di Bruxelles è una scelta produttiva oppure ti piaceva l'idea che questo incontro di generazioni avvenisse in quel contesto che è un po' la sintesi dell'Europa politica e non solo politica in questo momento prima della proiezione vi raccontavo quando è nato il film nel 2014 la prima idea di questo racconto inizialmente pensavo di fare un film di fanta fanta sociale diciamo un film fanta sociale fanta storico cioè pensavo Orlando è uno che non ha mai voluto emigrare suo figlio per motivi generazionali sì perché la mia generazione è quella che ha ricominciato ad emigrare tant'è che oggi l'Italia è il paese che perde più abitanti in assoluto in Europa proprio perché i giovani vanno quasi tutti quelli più formati quelli più attivi vanno all'estero e circa 100.000 ragazzi l'anno se ne vanno dall'Italia in 10 anni è un milione in 20 sono due allora io avevo pensato di raccontare la storia di questo figlio che era partito per l'Inghilterra per Londra siccome già si parlava della Brexit avevo pensato sarebbe molto bello che Orlando che non ha mai voluto viaggiare che non parla con suo figlio da 20 anni andasse a Londra e rimanesse bloccato a causa della Brexit non ero male come dice e no solo che poi a causa della Brexit che c'è stato davvero non sono riuscito a fare il film in Inghilterra e quindi hai scelto Bruxelles e quindi ci siamo così interrogati su quale città europea potesse raccontare più o meno le stesse dinamiche sociali e molto più che Parigi Roma forse Berlino è più simile a Bruxelles da questo punto di vista è una città in grande trasformazione Bruxelles anche molto discussa infatti hanno coniato un termine la brussellizzazione cioè ci sono interi quartieri di questa città che sono stati rasi al suolo e hanno costruito questi palazzoni che si vedono nel mio film perché è una città con una trasformazione impetuosa quasi cinese come velocità di trasformazione e allora abbiamo pensato Bruxelles è il luogo giusto anche perché c'è un'altra sottotrama in tutta questa vicenda è che la lontananza di Orlando dall'Europa Orlando non si pone proprio il problema che esiste l'Europa cioè lui non si pone nemmeno il problema che esiste Roma però non si pone il problema che esiste l'Europa e quando va lì incontra un'europea diciamo irrimediabilmente europeizzata e lui deve fare i conti col fatto che non si è mai posto questo problema dal punto di vista linguistico dal punto di vista dello stile di vita dal punto di vista culturale è un uomo che questi temi non li ha trattati nella sua vita non li ha visti per cui Bruxelles ci sembrava la città giusta per mettere in moto il conflitto che c'è tra generazionale e quindi anche culturale che c'è tra queste due persone Orlando e Liz l'ultima cosa e poi lascio a voi il microfono come sai per quello che riguarda il finale molto bello in cui i loro due si allontanano qualcuno ti ha detto o ti ha chiesto o ha scritto Chaplin no? ma certe cose rimangono sicuramente nell'inconscio però io volevo e quindi certe immagini che anche il cinema italiano ha fatto proprio nel tempo questi finali nei quali i personaggi si allontanano senza aver risolto fino in fondo il proprio problema sono ricorrenti nella nostra cinematografia ma questo finale è venuto fuori da una considerazione diciamo elementare cioè la storia che io racconto ha un punto di caduta nell'abbraccio tra loro due se finisse se io chiudessi l'inquadratura su questo abbraccio io direi che si sono risolti tutti i problemi della loro vita ecco facendoli allontanare nella metropoli che tra l'altro li sta osservando perché tutte queste macchine ferme sono piene di persone che osservano un po' di staccati con dei vetri davanti osservano questa dramma che si sta svolgendo allora farli allontanare significa reimmergerli nella grande domanda che riguarda tutti noi che cos'è il nostro futuro che cosa ne facciamo per cui nasce da questa considerazione poi ripeto nessuno a parte i grandi inventa qualcosa per cui sicuramente io ho utilizzato in tutto il film immagini che ho appreso e sulle quali ho riflettuto ma che qualcuno ha già probabilmente realizzato meglio di me sì in seconda fila arriva arriva subito il microfono adesso non so se ti arrivi da destra no ti arriva qui da sinistra dalla nostra sinistra buonasera grazie perché abbiamo visto un film splendido veramente volevo chiedere a proposito di quest'ultimo intervento mi è venuto immediatamente a proposito del finale mi è venuto alla memoria che ora è il film siccome ho visto che è stato dedicato a Ettore Scola volevo sapere se aveva qualche in qualche modo qualche connessione no anche qui la connessione con questa grandissima cinematografia nostra io ce l'ho in quanto connessione sentimentale la dedica a Ettore Scola in questo film dipende proprio deriva proprio dal fatto che negli ultimi dieci anni della vita di Ettore io ho avuto l'onore e la felicità da parte mia di frequentarlo molto spesso perché abbiamo creato una scuola di cinema ne parlo perché è una scuola pubblica e gratuita quindi non faccio pubblicità per un'azienda che si chiama Gian Maria Volontè e in questi dieci anni Ettore ovviamente io ho avuto uno scambio con questa persona per cui quando ho finito il film mi è venuto naturale dedicarlo a lui che ora è c'è la storia di padre e figlio ovviamente ma Ettore proprio perché appartiene ad una generazione che si è posto al problema del cambiamento a volte anche in maniera retorica oggi possiamo anche criticarle certe cose che sono state realizzate nel dopoguerra negli anni 50 negli anni 60 avevano tutti i difetti del mondo ma non avevano il difetto di guardare da un'altra parte cioè loro guardavano le cose e cercavano di capire che cosa fossero queste cose ecco questa è una cosa importantissima che pochi registi non dico in Italia ma nel mondo ancora oggi praticano nonostante si facciano dei grandissimi film ma questa interrogare la nostra realtà interiore anche non solo quella esteriore è una cosa piuttosto rara per cui la dedica a Ettore è legata a queste cose diciamo di carattere sentimentale non è nemmeno una dedica poetica o politica c'è qualcun altro che vuole intervenire? non so se il gruppo che è sotto il portico forse si difende dal vento ecco c'è giù in fondo prego buonasera si sente? ok buonasera allora più che altro una chiarificazione circa la personalità il personaggio di Orlando in particolare riguardo la sua incomunicabilità che lo caratterizza c'è una scena in cui appunto lui telefona al paese nuovamente in quella scena lui ha il telefono in mano ma la cornetta non copre l'orecchio questo mi ha fatto pensare un po' potremmo dire simbolicamente al problema che ha lui di comunicazione con il mondo esterno la domanda che mi pongo è fino a che punto è il mondo che non riesce a comunicare con Orlando e fino a che punto è Orlando che non vuole comunicare con il mondo grazie per questa domanda io sono cresciuto in una casa di persone anziane mia nonna era analfabeta e quando finalmente negli anni 80 e non sto parlando degli anni 50 negli anni 80 arrivò il telefono al paese noi avevamo il telefono in casa e mia nonna regolarmente quando squillava rispondeva con la cornetta al contrario il filo usciva da sopra non usciva da sotto nonostante tutte le spiegazioni che io potessi darle il fatto che si doveva parlare di qua la cornetta era uguale cioè erano uguali sia il ricevente che la trasmittente quindi lei si sbagliava in continuazione e non c'era verso di telefonare a casa mia se non ci fosse mia madre o mio padre o mia sorella e allora questa scorrettezza dell'uso delle strumentazioni tecnologiche deriva dalla non abitudine dal fatto che gli esseri umani non è detto che debbano essere che debbano adeguarsi in maniera automatica e meccanica ai nuovi strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione e questo è un grande tema cioè noi non è detto che siamo adeguati alla velocità di trasformazione della tecnologia è uno dei nostri problemi Orlando non se lo pone proprio questo problema cioè Orlando infatti non ha il telefono non ha né il cellulare né il telefono in casa lui fa la sua vita e basta esiste un problema di adeguatezza di ciascuno di noi rispetto alla velocità di trasformazione della nostra società e Orlando un po' lo rappresenta e nell'incontro ed è quello che dicevo prima siamo di fronte al fatto che ci sono dei giovani giovanissimi di cui tu fai parte che per la prima volta nella storia dell'umanità possono insegnare qualcosa agli adulti non sto dicendo che è un fatto positivo o negativo perché non l'ho ancora capito se è un negativo o positivo ma è un fatto e queste cose sono già accadute qualche decennio fa sempre per parlare dei miei nonni quando noi compramo la televisione col telecomando loro non erano capaci di usare il telecomando che è una cosa molto più semplice di un telefono per cui questo adeguamento faticoso degli esseri umani alla tecnologia è un tema secondo me ed è interessante a tanto più oggi che i bambini nascono con il cellulare in mano si dice i bambini subito intuitivamente utilizzano i cellulari anche perché i cellulari sono basati su studi scientifici assolutamente come posso dire straordinari si chiama interfaccia uomo vengono creati apposta per rompere tutte le barriere ecco che esiste il pastore satellitare cioè il pecoraio centrafricano che non sa né leggere né scrivere ma sa usare il telefono satellitare e lo sa usare perché ci sono le app i bambini sono molto più imparano molto più velocemente degli adulti e questo crea un'ulteriore difficoltà di comunicazione tra giovani e adulti che è una cosa che io trovo interessante da interrogare perché non sappiamo dove ci porterà ecco però possiamo farci la domanda dove ci porterà grazie Daniele non vedo braccia alzate in questo momento ma allora volevo chiederti una cosa un altro dei temi importanti credo adesso tu dici madonna sei diventato contenutista non è quello che poi ho anche una domanda tecnica da farti è quella delle radici sicuramente il tuo protagonista è portatore sano dell'importanza delle radici anche con quel con quel impacci che sono anche dei momenti abbastanza buffi quando lui va negli uffici non si capiscono ci sono tante barriere però questo questo film sembra ricordarci di quanto tagliare le radici è la cosa più imbecille che l'essere umano possa possa fare o azzerarle o cancellarle completamente ma io penso da questo punto di vista ora però questo è un discorso quasi politico quindi visto che mi fai la domanda ti rispondo io penso che da questo punto di vista noi dico noi il mondo della cultura il mondo culturale della sinistra ha fatto un grave errore a lasciare il monopolio dei temi identitari alla cultura della destra perché l'identità di una persona non è un accessorio noi presi probabilmente da uno sviluppismo esasperato per cui abbiamo confuso appunto il senso stesso della vita umana con lo sviluppo sociale tecnologico economico abbiamo dimenticato il fatto che gli esseri umani si relazionano con questo sviluppo e si relazionano in base all'identità che loro noi costruiscono nel luogo in cui crescono con la lingua che praticano con le abitudini e la mentalità e le esigenze che pone vivere in quel luogo lì questa questione dell'identità è una questione centrale per esempio in tutti gli studi di antropologia eppure noi dico noi gli intellettuali coloro che raccontano le storie che analizzano eccetera abbiamo relegato tutta questa tutta questa serie di questioni in una soffitta della cultura e però la storia ci presenta il conto oggi vincono in tutto il mondo partiti identitari partiti che sulla identità fittizia inventata quanto volete ma costruiscono la propria fortuna i discorsi sulle radici per esempio in Europa c'è tutta una cultura della destra religiosa che passa che nasce e cresce anche in Italia ma attraversa l'Ungheria la Polonia infatti c'è un legame strettissimo in questo momento tra Italia Ungheria e Polonia sul piano proprio filosofico e culturale e politico ecco noi abbiamo perso l'attimo ci siamo voltati dall'altra parte e la storia ci sta punendo da questo punto di vista per cui secondo me è bene che continuiamo a non fare finta che gli Orlando non esistano certo dunque ancora due domande non vedo e poi dopo chiudiamo naturalmente se avete domande vi do la vi do la precedenza come è ovvio prima dicevi che la prima idea del film nasce nel 2014 ci dici qualcosa in più proprio sul lavoro sulla sceneggiatura quella sceneggiatura che poi ha convinto Michele Plascido domani sera Michele sarà con noi quindi parleremo di Caravaggio ma continueremo naturalmente il discorso anche su Orlando appunto in tutti questi anni come avete lavorato come è cambiata al di là di quella che poteva essere la geografia in cui la vicenda di Orlando poteva svolgersi beh io sono partito da quello schema narrativo che vi ho detto cioè un'intuizione narrativa ho pensato voglio far fare un viaggio a quest'uomo che apparentemente è alla fine della propria parabola esistenziale in realtà poi la vita siccome vale la pena viverla fino all'ultimo istante ti sorprende anche appunto fino all'ultimo istante e se ti lasci sorprendere e questa questione è una questione molto importante secondo me perché per esempio uno dei tanti luoghi comuni che impariamo persino a scuola è che i romanzi di formazione riguardino solo i giovani in realtà non è vero un romanzo di formazione può riguardare anche una persona adulta e una persona anziana se l'avventura della vita viene in qualche modo accettata fino in fondo e viene sfidata da questa persona allora il fatto di poter riaprire improvvisamente una prospettiva nella tua vita quando l'hai chiusa già da 20 30 40 anni è una cosa estremamente interessante e la sceneggiatura ruota intorno a questa questione e anche intorno alla questione del lutto perché noi noi facciamo fatica socialmente a concepire elaborare il lutto proprio perché siamo molto la nostra società è spacchettata i giovani gli anziani i consumatori i lavoratori siamo divisi per categorie è come se l'essere umano fosse uno specchio rotto che riflette mille dimensioni diverse quello che è in maniera unitaria allora questa questa questione della della dello sviluppo di un racconto intorno ad un'esperienza che si può fare anche alla fine della propria vita ha guidato la scrittura del film fin dall'inizio poi ho avuto la fortuna di incontrare questo sceneggiatore con cui sto ancora lavorando adesso Andrea Cedrola che è uno scrittore oltre che uno sceneggiatore con il quale finalmente dico finalmente perché è un sollievo per me ho potuto condividere fino in fondo anche le paure che derivano dalla mia appartenenza cioè dal luogo in cui io vengo dall'elaborazione di questa mia esperienza diciamo montanara campagnola perché è un uomo del sud una persona importante che dal punto di vista intellettuale non è una persona qualunque e con lui abbiamo trovato questa chiave di lettura attraverso il personaggio di lei che era già presente nella prima stesura del soggetto ma non aveva questa rilevanza soprattutto non aveva questo carattere ed è il carattere di lei che fa venire fuori fino in fondo il carattere di Orlando per cui abbiamo costruito una specie di gioco di specchi perché alla fine si somigliano molto questi due sono due testoni e quindi si scontrano sono proprio nonno e nipote e quindi la sceneggiatura si è sviluppata intorno a questa questione fondamentale e dicevo anche l'elaborazione del lutto perché tutte e due questi personaggi devono elaborare delle perdite che paradossalmente finiscono per legarli senti l'ultima cosa invece voglio chiederti è a un certo punto nel film lo sguardo chiamiamo così della tua macchina da presa cambia nel senso che c'è anche un cambio di di obiettivi veri e propri obiettivi da un punto di vista tecnico perché avviene questo se ho visto bene hai visto bene nella parte italiana io non uso grandangoli sono obiettivi piuttosto larghi diciamo 25 28 35 ma non sono non sono grandangoli nel momento in cui arriviamo a Bruxelles utilizzo i grandangoli per un ragionamento molto semplice io non avevo mai usato in questa maniera gli obiettivi grandangolari ma mi sono fatto questa domanda proprio rispetto al fatto che la storia può sembrare una storia appartenente al passato mi sono chiesto ma noi come lo guardiamo il mondo e mi sono risposto così noi lo guardiamo con questo il mondo e questo ha tre obiettivi grandangolari noi non ci siamo accorti che negli ultimi vent'anni filmiamo tutti anche nel nostro quotidiano anche le persone che non fanno cinema filmiamo il mondo o riprendiamo noi stessi attraverso i selfie con obiettivi grandangolari quindi il grandangolo è entrato nel nostro modo di di visualizzare il mondo e quindi per certi versi siccome esiste il pensiero visivo non è una cosa stratta c'è tutta una branca della filosofia della psicologia che si occupa di questo guardare il mondo attraverso i grandangoli ha delle conseguenze e io ho voluto utilizzare gli stessi obiettivi che abbiamo nei cellulari un 12 un 14 e un 18 proprio per far sì che i personaggi di questo film fossero immersi in una visione molto moderna dell'esistenza sia quella intima profonda individuale che quella collettiva per esempio con un grandangolo se io faccio un primo piano o un primissimo piano non perdo mai lo sfondo il personaggio rimane sempre nell'ambiente in cui è con obiettivi più stretti vi sarà capitato anche chi non è non ha cognizioni tecniche di vedere dei primi piani in cui tutto intorno è sfocato perché gli obiettivi più lunghi fanno questo effetto ecco io non volevo mai perdere il contesto nel quale tutti i drammi e anche i momenti divertenti del film sono immersi ecco perché nel momento in cui passiamo dal mondo rurale di Orlando alla metropoli che è un luogo per Orlando sconosciuto io volevo attraverso i grandangoli raccontare anche il suo spaesamento ma anche il nostro spaesamento che però ha delle radici nel modo in cui noi guardiamo il mondo cioè attraverso il cellulare Daniele Vicari grazie infinite prima di andare via ci sono i nostri omaggi c'è la litografia originale che ogni anno Marco Bellocchio ogni anno è diversa quindi è per te e ci sono anche due sane bottiglie per brindare a tutto e al tuo lavoro una è l'antica Torino e l'altra invece è un vino bianco alle Rocche qui di Bobbio vi aspettiamo domani sera con il Caravaggio e con e con Michele aiuto e Michele Placido grazie a tutti